Non so se si è acceso, si si è acceso Gang 2022 On The Hunt Questa è la gang Ossegor, Francia Paesi baschi Watch this video Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video del canale On The Hunt La classica nebbia di agosto Agosto, siamo a ottobre Scusate, siamo a Ossegor C'è tutta la camera appannata Quest'anno con il fatto che non c'è più il Pro Francia Anche il Challenger Sirius è stato annullato Tappe fondamentali E' bellissimo tra l'altro da vedere Ossegor è decisamente più vuota Le onde sono comunque le stesse Ma c'è meno gente Però dal rumore è buono Ragazzi, ci siamo La marea sta aumentando Io tirerei fuori pure il twinnino Per vedere se realmente si riesce a usare nei tubi Sono gasati, poi Ma c'è capocciata, amici Fammi vedere se sei gasato Vado un gasatissimo No, entro con la tavola normale adesso Poi dopo se fa solo tubo Prendo il twinny Dai, a dopo Eccoci qui Guardiamo e commentiamo insieme questo video Come potete vedere le condizioni del mare Ma del tempo soprattutto non erano i migliori Qui c'è subito Tommy Che parte dalla prima giornata Con Tommy abbiamo lavorato molto Sul suo posizionamento della tavola Per renderlo più centrale Qui ci sono io Che riesco a prendere una buona velocità Con una curva piazzata nella maniera giusta E poi subito dopo Qui c'è Michi Ricordiamo che la missione era proprio quella di fare i tubi E qui c'è stato un primo tentativo Vi fermo subito perché Qui Michi dà dimostrazione che Va bene, lui ragazzi Sa surfare davvero molto forte Vorrebbe essere la promessa Per il nostro surf futuro insomma E abbiamo avuto questa opportunità Di lavorare insieme nei tubi Scusate sono molto raffreddato E si sentirà sicuramente Come potete vedere Qui Michi Mentre droppa Praticamente Non riesce a essere sotto il lip Nel posto L'unico punto in cui tu riesci ad infilarti Per poi andare Michi qui esce sopralmente insieme al lip Facendo un salto E questo è molto sbagliato per i tubi Per fare un tubo Bisogna sempre anticipare molto con la remata E essere già nell'onda Senza scendere praticamente puntando d'arriva Ma aggrappandoti direttamente alla parete Con il peso molto avanti Anziché indietro Qui ci sono di nuovo io Che provo un tubetto Però le condizioni erano ancora strane Di nuovo provo un altro tubetto Ricordate che è importantissimo Imparare, provare e cadere nei tubi Cadere nei tubi forse è la cosa più importante che ci sia Fino ad ora, fino ad oggi Se c'è un giorno di close out O quello che sia Bisogna andare in acqua Perché il tempo che passi nel tubo è oro Una volta che riesci a gestire quel tempo Non appena ti capiterà un'occasione Tipo questa Riuscirai a interpretare l'onda Nel migliore dei modi Come potete vedere è un bel tubetto Apre le trance La sensazione che ti dà il tubo Vabbè non ve la sto nemmeno a spiegare E qui subito dietro di me c'è Tommy Ora vi stoppo su questa parte Vi rimetto l'onda a rallenti E vi faccio vedere il peso di Tommy In questa occasione dov'è Tommy praticamente cerca di frenare Come fanno la maggior parte delle persone Ne ho già corretto tantissimi di voi Nei camp Tendono a buttarsi indietro E alzare la punta Credendo di poter frenare Sì riesci a diminuire la velocità Ma lo farai senza controllo Per frenare nei tubi Ci si mette al contrario Che all'indietro Si sposta il piede di erro Avanti al grip Il peso è tutto sulla gamba avanti E cerchiamo di rendere il corpo Parte dell'onda In questo modo Riuscirai a rallentare Più lentamente Ma a mantenere una velocità E governarla All'interno del tubo La nebbia sembra che se ne stava Andando via Qui ci sono di nuovo io Su un'ondina niente di che Che faccio un primo appoggio Ma mi scompongo un po' Sulla prima manovra La seconda Diciamo che l'attacco nel punto giusto E si alza un pochino l'acqua Ecco qua amici che parte E come potete vedere Diero di lui C'è una grossa serie Quello che io dico sempre Prima di entrare in acqua Quando ci sono i tubi È quello di selezionare Bene le onde Inutile prendere dei rischi Quando magari di erro C'è un grosso set Oppure l'onda che stiamo remando Non è comunque Non ha il potenziale delle onde Che ci saranno durante la giornata E qui Miki Nonostante il suo grande livello Appunto perché è un grandissimo surfista Si è fatto un po' prendere Dalla foca sicuramente È partito su quest'onda E si è dovuto mangiare questa qua Dietro Qua c'è di nuovo Miki Come potete vedere Parte ma si butta Qui ho stoppato perché Praticamente quando ci si butta In questa maniera La maggior parte delle volte Il leap dell'onda Chiude proprio sulla tavola E chiudendo sulla tavola In quella maniera Vorrebbe spezzarla Andiamo avanti Qui ci sono io Che provo un tubo a sinistra Senza riuscire Qua c'è un'altra manovra Non era niente di che Ma l'ho messa perché Mi piaceva questo Questo short break Insomma E qui la situazione Inizia a farsi seria Il vento inizia ad essere Realmente da terra Inizia a crescere un po' il mare Qua c'è Miki Su una bella sinistra Fa un bellissimo primo attacco E a questo punto Le onde sono già diventate epiche Sono stato premiato Più di una volta Prendere onde a Ossegor Non è assolutamente semplice E come potete vedere Il peso è davvero in avanti Su tutte le onde che prendo Sono proiettato Sono Ho una buona linea E rallento E do gas quando voglio Qua c'è Miki Che è quasi Con bel botto E questa è la bomba del giorno Che vi rifaccio vedere Ora A Slomo Perché è un'onda Che lo merita Qui stavo aspettando Da davvero Tanto tempo E Si è presentata Quest'onda Che apparentemente Era un close out Però dico cacchio Un close out così Me lo surfo molto volentieri Ecco E invece Mi ha dato spazio Ho pensato di Poter uscire Per cui Mi sono compresso Sulle gabbe Ho spinto il più possibile E quando ho visto Quel doggy door Che mi stava rompendo Dietro la schiena A quel punto Non puoi rimanere Troppo teso Per cui ho un po' Lasciandare il corpo L'onda è caduta Pramente sul tail Della tavola Ma io non ho fatto Forza sulle gambe Altrimenti Avrei rischiato Di farmi davvero male Dopodiché Questa è l'onda per intera Appunto Esco Perché erano già passate Un paio d'ore Insomma Prendo una bella frullata Come si deve Ovviamente Esco E Samo Ha finito le batterie Per cui dico Vabbè figata Prendo la GoPro E provo a fare qualche tubo Prendo la GoPro in mano E sentite un po' Che dico Ma guardate poi Soprattutto Che cosa è successo Vabbè È parte del surf Cheers Che la session è diventata Si è trasformata In qualcosa di epico Grande Samo Diarco la camera Che purtroppo Si è scaricata Per cui Continuiamo un po' Con la GoPro Michi Come è andata? Dai Andata così così Però Le onde sono piuttosto epiche Quindi Dai Qui in Francia Funsione così È pazzesco Ma non è per niente semplice Trovare Le onde buone Oh eccolo Un tubetto Uo Esci Esci Iiii Ma è importantissimo Prendere un giusto timing Le onde sembrano attaccate a riva Lo sono Ma in realtà È difficilissimo arrivarci Ma io sto ricamminando Ora Prendere un giusto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voi hai visto? Non so di entrata, nemmeno un altro gruppo. Un'ultima session epica, vediamo come sarà nei prossimi giorni. Ciao. Ciao. Ciao.